Ciao a tutti ragazzi, benvenuti lasciandoci un video sul Fortnite, guardate che hanno messo nello shop, porca miseria! Io lo voglio! Sto raga con il nuovo stile! Regalami! Ma... ma Recon! Recon... Recon expert! Mi devo fare per forza una ricarica, almeno da... Ma io lo posso shoppare, lo posso regalarlo, posso... Me lo regali? No. Non posso! Non posso, perché mi ho duecento e mi faccio. Papà, mamma mia, farei subito una ricaricata, metteci qui qua! Dai, che brutto! Non posso... Perché io in pratica stavo così, gli stavo regalando la schermata di caricamento. Ah, levate subito sto corso sul portocatore. Metto... Non lo levo il corso proprio. Ok, nessun codice. Ok, raga... Io gli stavo regalando... Ma è nascuro pure! Io gli stavo regalando la schermata gratis, e la stavo regalando... A un certo punto piglio... E lui... Reconexpert! Reconexpert! No, però... Bro, è inutile che ora ce la shoppiamo. Perché ora non è più rara. Ma ora non è più rara. Perché se ora è uscita nello shop... Quasi quasi tutto il mondo ce la comprerà. Quindi... Quindi... Cioè... Ma quando ho visto che shopp non c'era! Ma infatti è nuova, c'è appena stata messa. Oh, raga! Non ve l'ho shoppato, non ve lo consiglio. Perché no... Ce l'avrà quasi tutto il mondo, tutti i shopponi. Non è più rara, Fran, non è più rara. E sull'altro accanto ce l'avevo che era ancora rara. Ma ora me l'hanno rovinata, non è più rara. Ma pure io metto la femmina. E oggi quindi stavamo facendo un video... Per un motivo soltanto. Vi farò vedere l'evento... Doomsday in anteprima. Capito? Quindi... Metti pronto Balia. Che ora... Balia si è chiamato BugalPro. Quindi... Cioè... Non è una nuova persona nel canale. È sempre Balia, capito? Che però... 4, 2, 1, 3... 4, 0, sono... Raga... Non ci credo la ReconExpert. Però no, ma tanto fa schifo ora la ReconExpert. Cioè fa schifissimo. Prima poteva essere anche la mia skin preferita. Infatti lo era prima. Prima a me erano Skull Viola. La Renegade, la Ghoul Pink. Vabbè, la Pink Ghoul, vabbè. E poi la... Sulla account del PC io so queste cose che la vivo. Solo che noi uscita nello sopra non è più rara. Sì, però c'è che cavolo. Ti odio Epic. Cioè, ora hai rovinato una skin che ti faceva fare tantissimi soldi. Perché in pratica le skin rare tutti usano certi glitch, comprano account e tutto e pagano la Epic. Ma che l'Epic l'ha messa nello shop? Guadagni soldi ma di meno. Capito? Perché non è più rara. Ma va bene, vederla nello shop diviene un'emozione. Ma dopo un po' c'è... Ma io ora... Cioè, mi ricordo... Tutti... Oh, hanno cambiato anche la lobby. Bello questa. Mi ricordo... Che una volta... Vabbè, intanto metto la mappa. Che una volta... Non posso... Secondo me ce l'avevano messa in season 5. Non crea di qua, ma pure... Un battaglia reale. Eeeh... 3, 5, 4, 2, 7, 4, 4, 2, 1... Sì, sono tutti quanti. 3, 5... Brian, ma che faccio con la tua corda? Aspetta un attimo che sto mettendo la mappa. 80... Che non posso... No, 80. Doomsday Event Concept. Ma... Ah, questa qua. Aspetta, dettamela, dettamela. Ok. 9, 3, 1, 5... 3, 2, 5, 5... 5, 5... Allora, ripeti, ripeti da qua. Come ci ho capito il dubbio? 3, 9, 1, 5... Aspetta, 3, 9, 1, 5... 3, 2, 5, 5... 3, 2, 5, 5... 7, 0, 8, 6... Oh, c'è caricato il Doomsday. 7, 0, 8, 6... Raga, guardate. Guardi, ripeti l'evento per la prima volta! Isola non trovata. Eh... C'ha scritto qui. Vai, vai, vieni con... Andiamo, 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 andiamo. Così, vai! Ah, ma questa vape l'ho vista! Eh, da Octi! Però io la voglio vedere di persona, quindi non me ne frega niente. Da Octi, Cadiax, chissene. Io voglio guardarla di persona. Mamma mia, che bella! Entra nel Rift. Bene. Dobbiamo avviare questo pulsante. È vent'arte. Porca miseria! Raga, in pratica l'uomo che stava qua deve aver messo la palla qua. È tipo morto alla fine. Pensate che Miaoscolo morirà. Per sacrificarsi per distruggere questa. Sì, perché poi si sa che Miaoscolo dal miglior amico di Mida diventa uno dei nemici. Guardiamo. Ora zitti muti e cornuti perché dobbiamo guardare l'evento, l'evento, l'evento. Non ce la faccio. Levo anche il piccone. Ah, la metto così. Sento un timer. Oh, cavolo! Sì, sì, questo è un timer. Ma quasi sotto l'agenzia si stanno attivando. Come? Guarda. Ma possiamo scendere? Sì, però non scendo perché l'evento si dovrebbe tenere vicino alla palla. Se scendiamo poi è come se... Io so che tra poco c'è un espl... Oh, la sei! Io questo video l'ho vista. Un'esplosione ci dovrebbe essere tra tipo un minuto, due minuti. Tanto esplodiamo da... L'agenzia ricca... Cioè, l'agenzia cambierà. Godo, 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 Godo! No. L'agenzia diventerà... Delle ombre. È il mio team preferito. Oh! Cos'è sta cosa? Là c'è scritto che è un concept. Cioè, non è vero. Oh, sono bloccato in aria. Forse sarà davvero così l'evento, raga? Oh! Che sta a succedere? Tu sei più in alto di me. Evento è tutto lagato! Questo dovrebbe essere tutta acqua! Raga! Dopo una settimana scomparirà. Cioè, si presciperà. Questo sarà il nuovo evento. È un po' corto. Torniamo al... Non sarà proprio per lì. Torniamo al centro, torniamo al centro. Voglio farmi vedere una mappa che ho visto su TikTok. E... Mo... Scrivo il codice. In pratica... È una mappa che ti fa vedere gli edit strani. Cioè, intanto che vedo... Cioè... Allora è bello l'evento. Dovrebbe raggiungere un po' di cose in sto concept. No? Uno, sei... Quattro... Sei? Tre, sei, zero, quattro. Due, sei, cinque, otto. Ma perché... No, mi ha fatto entrare... Nella mappa Brugidello. Oh, esci, esci. Che se no mi fa mettere l'iso. Sei tornato al centro? Sì. Due, cinque, otto. Aspetta che la devo riscrivere. Non ce l'ho, non ci credo. Eccolo qua. No, non me la trovo. Cioè, raga, io non ci credo ancora che l'evento è così... Bro... A parte questa qua, a me non è Pinnacoli, ma sembra Pinnacoli almeno, non so perché. Però assomiglia a Pinnacoli per me, anche se non lo è. Sì, sì. Se arriviamo entro stasera, quindi domani dovrei shoppare, entro stasera a cento iscritti e arriviamo a sto video, cento like, shop all'aria con expert. E anche io forse. E anche tu forse. Se invece non arriviamo a cento iscritti e cento like, mi dispo ma non la compro. Cioè, io vorrei... Intanto sfidiamo a Ballia perché è migliorato tanto. No, no, ho messo io la box qui nel 2020. Ah, ok, andiamo, io l'avevo messo qua, però vabbè. Già l'ho fatta io questa qua. Ma perché sono passato il spettatore? Purisci. Io sono passato il spectator. Ok, riavvia la mappa, metti... Buga il pro Wii. Vai, vai. Riproduci nuovamente. Vai, vai, vai. Raga, Ballia è migliorato, dice. Tu dici. È... Tu dici, Ballia. Comunque i materiali sono... Già l'ho fatta una volta, Bruce. Però le cure, non sono... Le cure e i colpi non sono infinite. Vabbè, raga, io so freddo. Appena acceso. No, mi ha dato la vittoria. Come? Sì! Vabbè, tanto sono sempre a demoglio. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Raga, io sono freddo, quindi c'è. Ma dove il Steam Dragon dicevano che eri forte? Sì, dicevano che sapeva editare, che ero bravo. Però oramai l'ho abbandonato. E non ci dormi più, ovviamente. No, ma come? Perché con la mira mi fa schifo? Ah, guarda. Vittoria. Sconvinta. Ma perché? È bugata. Allora. Bugata. È bugata. Eh, tu sei... Allora, tu sei... Ata. Perché tu sei buga, hai detto. Oh, però un po' forse. Cioè, non proprio come buca, però se fa buca. Aia. Si è migliorato tanto, eh. Prima... Ma se tu non miglioravi, devi ammetterlo che era un po' più forte io. Ma invece si è migliorato tanto. Lui è in season 1. Io ho 5. Ma no, ma laggo, ma da... Guardate, guardate il mio ping. Ecco perché così tanto ping. Perché siamo andati a vedere il doomsday. E il doomsday, in pratica, utilizzava tanto ping. E cioè, tanto, perciò laggo. Tu laggi, Bali? Un po'. So, 111 di ping, ping. 116 io. Oh, cavolo, 100 te l'ho fatto. Tu mangiò solo 70. Mamma mia. Gata come vuoi, c'è gata come vuoi, c'è gata come vuoi. No, però, perché stava appagata? Vabbè, però è bella sta mappa. Vittoria. È bella sta mappa, dai, ragga. È bugata, però è bella. Ma è tanto importante divertirlo. Che... Ha vigno. Cioè, raga, ha detto che Balia per sbaglio si è sciopato il pacchetto da 20 euro. Per sbaglio. Davvero. Quale era il codice? Il codice, eh? Non lo so. Allora, raga. A 50... No. Facciamo... 50.000. 50.000 follower. Quindi tantissimo, che io sto solo a 40, purtroppo. Che palle. 100.000. Non è un po' troppo. Sciolto. No, no, lo faccio apposta, perché voglio vedere se loro mi vogliono bene o no. Ma va. Allora, quindi ho detto a 50.000 like e a 1.000 iscritti. Io... Che... Allora... 1.000 iscritti avrà il codice supporto a 2. Lo so. Io... Chiamerò il codice supporto a un creatore con il nome... Tipo, faccio un esempio. Uno mi commenta Brianino piccolino. E mi piace. Io mi chiamerò con il codice supporto a un creatore Brianino piccolino. Capito? Cioè, lo comandate voi il mio codice supporto a un creatore. Tutto grande, tutto piccolo. Eh... Poi me lo deve scrivere nel commento. Cioè, non posso saperlo io. Buonasera. Ma viate solo. Chi ti va? Boh, perché sono god. Non sa che significa essere un god. Ma allora che buga sei? Buga sa che significa... Nooo... Ok... Non ti deve incacchiare così tanto, però... No, io in pratica... Stavo giocando con dei nabbi. Due nabbi. E io ho detto... Sono freddo. Per dire io... Non so appena acceso. Sono freddo e gioco piano. E quella mi ha detto... Sono freddo? Ma che italiano è? Ma... Cioè, tu giochi a forza e ti shoppi il pacco da 5 euro perché va Iris. E poi non so anche che significa essere freddi. Ma che bello! E' la cugina di una mia amica di Scario, migliore amica di Scario e poi non ce l'ho l'amicizia della cugina e poi questa mia amica non è nemmeno online, quindi... Ragazzi, dopo torniamo in lobby e ristartiamo un'altra partita perché io laggo tanto. No, Bali. Perché non ci andiamo a fare una coppia? Beh, dopo ci andiamo a fare una coppia. Però guarda la mia... Però guarda la mia mira ora, cioè se vuoi... Che ho la R, mamma mia. Ma... No, ok, 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 ora uso, diciamo, le H, diciamo, perché ora mi impegno tantissimo con queste impostazioni che ho. Ok, quindi ora ti vanno. Ti segnalo, però... Va bene, va bene. Ma secondo te se io ritorno cosa diranno? Mi trovo. No, ti manderanno fuori. Perché? Perché quelli là mandano solo le persone non bugiarde, diciamo, li accettano. E dato che loro pensano che tu sei un bugiardo, che fai finta di giocare la season 1. Non lo potranno. Poi non te lo consiglio. Ragazzi, qualcuno che si chiama Mauro Maurizio vi chiede... Vuoi entrare nel nostro team, si chiama Dragon, abbiamo anche un codice supporto creatore. Voi ditegli di no, perché lui che fa? Prima fa così. Poi se voi non siete forti, oppure non fate una cosa che dice lui, vi ricatta e vi fa... E ve ne fa andare dal team, è come se vi caccio poi. Capito? Quindi, raga, non ve lo consiglio. Raga, mi devo avvicinare il microfono che qua sta un'onda, mamma mia. Raga, raga... Sì, vai. Ma che... cosa? Che stavate? Ma come faceva? Ma che cavolo? Ok, 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 ok. Vuole proprio... Io, raga, ieri l'ho truppato su Starve al Mondo, solo che poi mi ha detto, no, Brian, guarda che ti segnalo. Io ho dovuto ridare l'arma. Sì, si può segnare. Lo so. E basta. Perché? Allora, ragazzi, se volete, oggi pomeriggio faccio un video dove scambiamo con lui, va bene? Perché va bene. Io credo, cioè, io le armi le ho, però... Eh, lo so. Non è che posso scambiare. Eh, è vero, abbiamo scambiato gli erdolo e ti ho truffato, in pratica. Eh, tanto ti segnalavo per tutti i commerciali. Dai, c'è bianco. Io non mi cura nemmeno, sono un prosciuttone. Non è vero, non cura. Ok, non mi cura neanche io, allora. Va bene, non tu non curarti. No, non ci sei curato. No, io non mi sono curato. Sicuro. Sicuro. Oh, caccio. Eh, allora perché non chiedo? Baaah! Allora, perché avevi lasciato? Ragazzi, consigliamo di levare le cuffie, se levo sedere, o abbassare il volume. Ok, potete rimetterle nelle cuffie, alzare il volume. Però... Balia che gioca forte, è una cosa nuova. Ma che... Ma che corno dici, ma che dici? Guardalo che... Che... Ok, dopo ti segnalo per H. Che... Ma che corno dici... Lo sai che... Ma che sei curato! Ma che... Raga, vi consigliamo di bannare Balia. Perché le ha... Ok. Non lo fate perché non le ho. Sì, fatelo. Ma non è vero mai. Ma allora, Balia, 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 due mesi fa, come editava. Ora com'è? C'è davvero? Ecco, ha comprato le macro. No, 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 non mi concentravo a... Dai, ma cosa, 10 di vita? Va, che cazzo... Allora, chi vince questa partita, quindi questo round, dove lo facciamo, si scioppa la Re con Expert. Chi vince, chi perde, no? Ma che mi devo fregare, i soldi sulla carta. Chi vince deve... Ah, è vero, tu perdi. Quindi inizio a preparare i soldi. Ok, vai, scioppa, scioppa. Ah, l'ho fatta a posta, l'ho fatta a posta, raga. Dai, Balia, 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 Balia. Balia, Balia. Io non rubo soldi dalla carta, lo fai? No. Balia è laduncolo. Immaginatevi, Balia, immaginatevi la faccia di Balia, io non ve la posso dire. E poi, con una calzamaglia indosso, ladro, tanga, tanga, tanga. Ah, quanto ci godo che è una mira schifosa. Allora, perché ti avevo fatto più tanta? Ma non è vero. Non c'è qualche cosa. No, non è vero. No, perché... Allora, arriviamo al round, boh, che round arriviamo, 25? Ehm, 4. Guarda, già l'abbiamo passato. Mi dispiace se... Ehm, tu mi anima, tu mi anima a favore. Olè! Guarda, non, perché non mi spavamo spasso? Muto, muto! Muto, muto! Muto, muto! Yeah! Vabbè. Intanto sto vincendo. Sto vincendo! Quindi pop è... Ma tu lo sai che il mio nickname è Google Pro? E il tuo è Brian20107? Cioè, non lo so più. Ma perché è il mio... Ah, è imbottazzo! È imbottazzo. Oh, lo sai che anche me hanno abbandonato il film? Perché? Perché boh, ehm, cacciava troppa gente, Gabri. Raga... Ti vedo se posso rientrare così. No, no, non rientrare, bro. Bro, non rientrare. Bro, se non vuoi avere la più grande delusione della tua vita, non rientrare. Perché prima quella ti accolgono bollino, potatino, puzzettino. Poi tipo... Poi tipo a Mattimatto... Che ha fatto? Mattimatto... Ehm... Aveva insultato tutti, in pratica era razzista contro Manu e tutti. Perché ha fatto anche razzista quando... Credo che tu già te l'hai riandato. Vabbè, comunque, razzista contro Manu non l'ha mai cacciato dal team. E se ne voleva anche andare lui dal team. Noi che invece volevamo stare, ci ha fatto andare. Quindi, se tu ci vuoi stare e vuoi avere la più grande delusione della tua vita... Eh, baci. No, non è così, tanto per te lo faccio. No, non te lo consiglio. Porca, ma questo è l'hacker basso, abbandono. Ma che hack? Usare le tue hack in partita. Voglio... No, non voglio aspettarti. Eh, io comunque sto già in un altro team, quindi... C'è... Comunque ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Lasciate like e tra poco avremo una live in coppia. Ciao, ciao! Wow, ragazzi!